e la tiene così, non è solo puntare là, vieni te! e dopo dove schiaccio? ah ok, senza premere, dove andremo a finire? che forte, ma chi siete? a parte essere tanti babbi natale ah ok ah già, bellissimo guarda, lì c'ha dai, che tutti vengono qua a destra dai, bella, dai sono i babbi natali sui pattini ah, sta facendo un video no, è bellissimo ah, vieni, ciao ma è bellissimo hai visto da una cosa brutta che non c'era nessuno ah 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!